Grazie a tutti. 2013, 2014, 2015 non c'è più. C'è un mondo, un'Italia e un Friuli, Venezia e Giulia del 2017 fine, 2018, 2019 che è completamente diverso, modelli sociali diversi, un'emissione di tecnologia straordinariamente importante, la discontinuità è su questo ragazzi. La discontinuità è sulla leadership si dice, non cambia nulla se si cambia dal vicepresidente. Se dovesse usare una battutaccia direi che la discontinuità è totale fra me e Seracchiani proprio per le modalità che sono completamente diverse. L'ha appena detto lei, lei molto romana, molto centrale, io molto legato al regionismo. Già questa mi pare una discontinuità straordinaria. E poi c'è una straordinaria discontinuità sulle modalità di lettura di alcune partite, quindi prima fra tutte quelle legate proprio alle modalità con cui io mi approccio rispetto alla gente.